ciao amici buongiorno vi faccio questo video per parlarvi della differenza che c'è tra tennis super in lattina e quella in vetro è incredibile a dirsi dopo tanti anni ho capito che c'è una netta differenza la tennis in vetro ve lo giuro risulta pesa pesante sembra quasi di bere cognac invece quella in lattina a parte le differenze di colore e quantità che poi vedrete quella in lattina proprio va giù che non meraviglia come come regolarmente la tennis perché se ci pensate quando la bevete al pub lo vedete in scozia risulta che va giù bene non è né pesa né densa né difficile a metropolizzare comunque pur sconsigliando sempre le lattine voi lo sapete in questo caso vi consiglio di comprare le lattine da 50 che costa mi sembra 1 euro e 58 perché perché vi giuro vi va giù meglio probabilmente essendo facile trasportarla viene importata dalla scozia e quindi la qualità è quella scozzese mentre quella in vetro probabilmente in produzione europea comunque vediamo il video che segue ecco nello specifico andiamo a valutare entrambi i prodotti allora la lattina a vetro la bottiglia a vetro e la lattina vedete che già c'è una differenza netta di colore e di schiuma vedete guardate qua la lattina è rossa invece la bottiglia tende ad essere bionda un po più gassata pur essendo soliti ingredienti solito prodotto io continuo a ribadire che per una volta è meglio la lattina che in proporzione costa anche meno rispetto alla bottiglietta 33 effettivamente guardate guardate quanto dura la schiuma e qua invece è più è parese si percepisce proprio e poi a livello anche metabolico anche durante il pasto questa va giù meglio lascia anche meno postumi io sinceramente per la prima volta sconsiglio sempre le lattine quello sapete però in questo caso non so perché probabilmente per un discorso di importazione meglio la lattina sia come prezzo che come qualità che come come tutto come metabolismo cioè è favoloso va bene a presto per un'altra grande rubrica e forza super tennis grande birra per un'altra type